Queste elezioni europee in Germania hanno confermato una tendenza che era emersa in maniera piuttosto chiara già nell'autunno scorso, quando si erano tenute le elezioni regionali in Baviera e in Assia. Una tendenza che quindi ha confermato, da un lato, una stanchezza molto sentita, molto diffusa per la grosse coalizione, l'accordo fra i conservatori socialdemocratici che attualmente governano insieme in Germania, e in particolare nei confronti di uno dei due contraenti di questa alleanza, cioè i socialdemocratici della SPD che sono usciti praticamente a pezzi da queste europee, e dall'altro lato invece è stata confermata la continua crescita di quella che viene percepita come l'unica alternativa credibile e autentica allo scenario della grosse coalizione, cioè i verdi, che hanno ottenuto un altro risultato straordinario, superiore anche alle aspettative. Un risultato probabilmente dovuto anche a una campagna elettorale molto efficace. Da un lato i verdi sono riusciti a creare dei messaggi chiari, delle posizioni facilmente identificabili. Dall'altro lato hanno saputo sfruttare in maniera molto efficace alcuni dei temi diventati rapidamente molto importanti nel dibattito pubblico tedesco nelle scorse settimane, nei mesi scorsi. Da un lato, ad esempio, il tema dell'ecologia e dell'ambiente, che è diventato in Germania molto sentito, soprattutto grazie anche all'attività di movimenti come Fridays for Future, che ha tenuto molte manifestazioni in Germania, molto di successo, molto frequentate, con tanta gente che ha partecipato e a cui talvolta ha partecipato anche la stessa Greta Thunberg, che è venuta in Germania spesso. Dall'altro lato sono anche risultati la forza più chiaramente europeista durante la campagna elettorale. Il loro messaggio pro-Europa è passato molto meglio rispetto a quello di altri partiti, dei partiti maggiori soprattutto, e quindi sono emersi come i veri paladini dell'Europa in Germania. Un altro dato da non sottovalutare, hanno stradinto fra i giovani, sia fra coloro che hanno votato per la prima volta, sia fra gli elettori sotto i 30 anni, i verdi sono risultati primo partito con distacchi abissali rispetto agli altri. Questi europei comunque avranno delle conseguenze rilevanti sicuramente in Germania, anche a livello interno, anche a livello del governo nazionale. E per capirlo basta anche vedere non solo quello che è successo con le europee, ma anche quello che succede in un piccolo land, il più piccolo land della Germania, a Brema, dove si sono tenute anche le elezioni contestualmente alle europee per eleggere il Parlamento locale. A Brema, infatti, la SPD e i socialdemocratici governano naturalmente in coalizione ininterrottamente da 73 anni. Sono da 73 anni il primo partito. Ebbene, stavolta pare che possano essere sconfitti, che la CDU, i cristiano-democratici, possano risultare nel piccolo land, il primo partito. E se questo risultasse confermato dai risultati finali, le conseguenze sarebbero enormi per la SPD e per i socialdemocratici. Sarebbe inevitabile quindi una rimessa in discussione anche della leadership, perché nonostante quello di Brema sia un land molto piccolo, naturalmente la simbolicità di una sconfitta in un land, in una regione in cui si governa da 70 anni, è enorme. Quindi ci sarebbero sicuramente conseguenze per la leadership e se ci sono conseguenze per la leadership e eventualmente un ricambio al vertice, anche la sopravvivenza della stessa grosse coalizione è chiaramente a rischio.